Primo panel, parliamo di prodotto e prodotti turistici, con un recap su domande e offerta di Paolo Manca, Presidente di Federal Berghi Sardegna e Luca Osai, dottorando dell'Università di Cagliari, Giuseppe Iarc, della For Tourism che ha collaborato al piano strategico turistico Sardo, Giuseppe Giaccardi della Giaccardi Associati che ha lavorato sul piano strategico della Island e basta, siamo quattro, giusto? Poi passeremo a Franco Grasso e poi due collegamenti dall'esterno, versione più short dell'aperturismo, quindi non scappate. Dammi il microfono per favore. Allora, la prima domanda la faccio a Luca Osai. Ed è semplicemente qualche osservazione tua rispetto a alcune delle indicazioni che ha dato Giulia, anche basandoti ovviamente sulle ricerche che hai condotto. Luca Osai è uno dei curatori del rapporto Orvat sugli alberghi in Europa, ovviamente ha affrontato tutta la parte relativa all'Italia e ovviamente anche il rispetto alla Sardegna. Ok, grazie della parola innanzitutto e grazie dell'invito. Sicuramente da quello che ha presentato Giulia poco fa si nota una forte concentrazione al nord e al sud in due zone, che poi rispecchiano anche quella che è la crescita delle catene e la presenza di catene o gruppi alberghieri nazionali ed esti in Sardegna. Soprattutto nella zona di Sassari, perché sulla scorta poco a livello di catene, ma molto a livello di privati operatori locali, anche per via delle infrastrutture come sulla zona di Olbia e poi Cagliari in virtù dell'aeroporto, sono un po' più carenti le due zone e ne subiscono anche sotto il profilo delle catene, sia la zona di Oristano che la zona di Logliastra, dove ad esempio l'unico albergo di catena, in quel caso sono gli alberghi posseduti dal gruppo Mazzella, che poi è l'unico direttamente gestito da loro, gli altri sono tutti in liste ad altri operatori sostanzialmente. Le catene, quello che si nota dal report e dal lavoro che noi abbiamo fatto in questo caso è che investono in Sardegna, investono in Sardegna però, sono molte le catene sarde, per lo più quelle che hanno più alberghi a maggior numero di stanze sono le catene locali, c'è il gruppo Iti, il gruppo Delfina e così via. E questa è una specificità dell'isola, dalle analisi che avete? In generale in Italia, è chiaro che sotto un profilo storico, il possedimento poi delle aree dove sono presenti questi alberghi qui è stato più semplice per operatori sardi andare a costruire e poi alcuni gestire, ma è molto diffusa anche la classica forma dell'investimento immobiliare, come poi quello che avviene anche col gruppo Mazzella, che sono andati tutti ad operatori stranieri, da Falkesteiner a Core e così via. Ci sono due tipi diversi di business che vengono fatti, uno di gestione come può essere un gruppo come Delfina e uno un pochino più di immobiliare come è stato quello ad esempio del gruppo Mazzella che è tra i tre più grossi in Sardegna. Grazie. Paolo, invece, dal tuo osservatorio di presidente della principale associazione di categoria che rappresenta il mondo del turismo e della ricettività alberghiera in particolare, quali osservazioni ti ha suscitato le indicazioni che ci ha dato Giulia e le considerazioni che stava facendo Luca? Grazie innanzitutto per l'invito, è sempre un piacere e poi amo ripetere che quando si parla di turismo con i numeri alle spalle mi piace un pochettino di più perché altrimenti stiamo facendo cronache da bar e ci affidiamo a quella ricerca della Fondazione di Sardegna e che cosa dobbiamo vivere in Sardegna tutti di turismo, poi in realtà i numeri ci dicono altre cose, nel senso viviamo di turismo, è al centro di tutta la filiera, quello che si stava raccontando poco fa è una dimostrazione di quello che è stato lo sviluppo, però è anche vero che il mondo sta cambiando e lo scenario che oggi fotografiamo è destinato a durare ancora poco, è destinato a durare ancora poco perché i tempi e i modi, soprattutto in virtù di un anno come questo dove i trend, lo ha detto Giulia, per cinque anni è stato stabile il numero dei posti letto. In realtà la domanda ha recuperato i valori antecrisi, cioè nel 17 siamo tornati ai valori antecrisi, nel 18 con questi fantomatici 15 milioni di presenze che sono anche dovute alla legalizzazione di una parte dell'extralberghiero, che il dato citato da Giulia è emblematico, cioè c'erano tantissime seconde case che operavano al di fuori della legalità, che sono entrate all'interno della squadra ufficiale di turismo Sardegna e quindi hanno fatto salire e lievitare le presenze a 15 milioni, il dato 18 e 15 milioni. Questo ci deve far sorridere sino a un certo punto, perché? Perché siamo tornati, come dicevo, in dieci anni ai livelli antecrisi, quindi senza guadagnare una persona in più, quando il mondo è cresciuto quasi del 10% ogni anno, si è superato il miliardo di viaggiatori e noi non ne abbiamo preso una piccolissima parte. È anche vero che le presenze vanno analizzate in maniera un pochettino diversa, un tempo si facevano tre settimane di vacanza, poi due, oggi forse una di media, perché poi in realtà la permanenza media è alterata nelle sue analisi, perché l'ospite cambia anche più destinazioni, quindi c'è stato 4.8 giorni, in realtà è difficile che qualcuno venga in Sardegna sotto i sette giorni, tra data di arrivo e data di partenza. Questo fa sì che lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera, che come abbiamo definito, sta al centro di tutta la filiera, non è il turismo, ma sta al centro, perché noi siamo obbligati a parlare con i trasporti, a parlare con i servizi, perché è già stato detto prima da Giulia, anche nei vari panel che sono stati affrontati l'anno scorso, ci piace chiarire qual è la motivazione di viaggio, ed è fuori di dubbio che la motivazione di viaggio continua a essere solo ed esclusivamente il balneare, a cui poi attacchiamo dei piccoli cluster che ci fanno vivere un pochettino un'esperienza diversa, però la motivazione principale è quella, il nostro mercato di riferimento di qualsiasi nazionalità sia, è sette volte su dieci famiglie. Quindi oggi noi ci troviamo delle strutture che stanno cambiando, concentrate solo in alcune parti, come appunto ha detto Luca poco fa, con poi una polverizzazione, diciamo che sono 500 imprese sarde su 900 alberghi, quindi mediamente ogni impresa ha due alberghi, anche se qui poi la statistica del pollo ci insegna che non è così. E qui abbiamo già parlato, quei quattro gruppi, cinque gruppi già citati, coprono quasi il 40% del totale della ricettività sarda alberghiera, quindi vuol dire che superano i 40.000 posti letto su 110.000. Il resto è polverizzato in un'infinità di altri alberghi che si sviluppano ovviamente polarizzati nei posti dove c'è. L'ultimo dato che voglio dare è che la Sardegna ha la dimensione media per struttura alberghiera più grande d'Italia. In Sardegna mediamente oggi siamo arrivati ad avere 55 camere per ad albergo, oltre 110 posti letto. La media nazionale è 30 camere e 60 posti letto. Quindi ci troviamo con alberghi mediamente più grandi, mediamente più qualificati. Negli indici dove si studia il paniere di costruzione dell'offerta alberghiera, la Sardegna raggiunge 96 punti, dando un certo punteggio a 5 stelle, un certo punteggio a 4 stelle e così via, che stacca di quasi 10 punti gli altri, perché abbiamo comunque mediamente tantissimi alberghi, 4 e 5 stelle, rispetto al resto del territorio nazionale che invece si basa su un'offerta di 3 stelle. Quindi, e chiudo qui il collegamento di quello che dicevo prima, della provocazione che ho fatto, siamo appetibili ad essere portati in catena, ad essere a fare sistema. Vediamo dal nostro osservatorio che nei prossimi anni ci sarà una tendenza delle strutture 4 stelle che quindi hanno una forte appetibilità sul mercato ad essere inglobate in più piccole catene. Grazie. Mi sembra... Volevo chiedere adesso al dottor Giaccardi e a Giuseppe Ejark. Voi, in questi anni, a diversi livelli differenti, territoriali, in ambiti più ristretti, il dottor Giaccardi, su ambito che riguarda l'intera regione, avete incontrato per fare questi lavori decine, centinaia, forse migliaia, di operatori. La domanda è qual è la vostra considerazione del comportamento degli operatori rispetto alle sollecitazioni che arrivano dal mercato? Poi voi, ognuno di voi ha delle esperienze al di fuori dell'isola. Esiste una via sarda imprenditoriale nella risposta alle sollecitazioni che arrivano dal mercato o questa differenza presunta non esiste rispetto a altre parti d'Italia? Buonasera, grazie dell'invito. Domanda difficile. Provo a rispondere, però, non per aggirarla, vorrei dire due cose a cui tengo molto. La presentazione che ha fatto Giulia è molto interessante, ma, suo malgrado, ovviamente, questa regione non dispone di dati sui prodotti, sui tematismi e sulla stagionalità di questi prodotti. Questo è un male. Drammatico, secondo me. Bisogna trovare un modo, rapidamente, perché i territori, diciamo così, nelle diverse configurazioni, per l'assumore, recuperano questa cosa, perché se no non riusciamo a ragionare. Per esempio, sto facendo adesso un lavoro in Sardegna, abbiamo scoperto che la classificazione prodotto interno del SIRED ci dice che c'è una buona performance, anche in questo caso, del turismo internazionale, e che la composizione 69 estero è 41 Italia. 31 Italia, scusate. Quindi, però, se non approfondiamo, lì non riusciamo a... possiamo fare solamente delle speculazioni o delle intuizioni. E non riusciamo a convincere gli operatori, vengo, comincio a rispondere alla domanda che mi hai posto, scusa, do del tu per comunità di ragionamento, non riusciamo a quegli operatori che poi, giustamente, fanno un calco dei costi e benefici e dicono, ma chi me lo fa fare a me di rischiare sarà aperto a 6, 7, 8 mesi. Perché, appunto, non ci sono, al di là di momenti in cui la domanda è affluente, tutti lo capiscono, però non ci sono dati strutturali che consentono di fare un lavoro interessante. Collegato a questo ragionamento c'è il fatto che, appunto, i dati che ci sponeva Giulia in maniera puntuale mancano sempre, e questo è un dramma nazionale, non so esattamente gli altri paesi come funzionano, però mi risulta che, per esempio, la Spagna su questo sia molto più avanti. Noi non colleghiamo mai i dati dei benchmark turistici, arrivi, presenze, spesa turistica, ai dati economico-sociali. Io sono emiliano, l'assessore della mia regione, ogni anno dice, abbiamo fatto il boom dei 46 milioni di presenze, abbiamo fatto il boom dei 52 milioni di presenze, abbiamo fatto il boom dei 58 milioni di presenze, poi vai a vedere come è andata l'occupazione, il saldo imprenditoriale nella filiera turistica allargata, dati ufficiali, Istat, e vedi che è il segno negativo. siccome sappiamo da estrapolazioni che si possono fare, per esempio, dei dati pubblicati dal WUTTC, che è l'organizzazione mondiale di Turo Pareto del Catena Berghiera di Londra, che ogni 50.500 euro circa si generano un posto di lavoro, voi capite che se riusciamo a fare un ragionamento interessante, diamo delle motivazioni formidabili agli operatori per aumentare la capacità di rischio e investire, mandiamo delle motivazioni formidabili anche ai territori per fare del turismo non una variabile passeggera, ma una variabile strutturale. Ecco, in questo c'è molto lavoro da fare e questo chiudo la risposta alla tua domanda. Grazie. Allora, il sistema diciamo che abbiamo visto che ci ha fatto vedere in qualche maniera Giulia è interessante, ci dà dati, ci dice più o meno, ci fa la fotografia di quello che siamo. C'è una domanda da farsi, quanto possiamo crescere in più? Ok? Perché la crescita non è limitata, ma non è tanto, tu ci hai chiesto a Giacardi e a me fondamentalmente se questo modello può funzionare. Sì, la struttura funziona, sono assolutamente d'accordo con Paolo, diciamo il prodotto generale è buono, non è eccelso, ok? Ma è buono, sopra della media italiana la realtà è quella, la qualità anche è superiore, pur avendo problematiche, eccetera. Dove è la nostra criticità? che noi non sappiamo che cavolo è il mercato. Il nostro problema è che siamo un'isola e va benissimo, siamo isolani e va benissimo, il mio cliente non è isolano. Il nostro problema fondamentale è quando Giulia ha fatto vedere quella roba, io mi sono chiesto ma che cosa vuoi dirci? Perché c'è un problema fondamentale, a noi, la nostra offerta turistica, noi non ci vendiamo, ci vendono, siamo d'accordo? Sì, e ci vendono dei canali generalisti, pertanto è molto difficile che una proposta di prodotto verticale me la venda il signor Booking, il signor Expedia, eccetera, eccetera. Allora, qual è il vero problema? Noi abbiamo un problema generalista, un prodotto più o meno generalista, monoprodotto. e realmente cominciamo in qualche maniera a ragionare che abbiamo le capacità ma che noi possiamo continuare a pensare che il cliente mi arriverà senza far nulla, perché quel mondo, come ha detto giustamente Paolo, è finito. Pertanto, in qualche maniera il ragionamento è abbiamo, come dire, la materia prima, un po' grezza ancora ma perfettamente definibile sul quale possiamo ragionare. Io vi do un dato, nell'analisi, noi abbiamo visto molti dati, come ha detto giustamente Giulia, ma anche Paolo per la lavorazione del piano strategico. In Italia, io sempre dico che ci sono nel turismo italiano tre certezze. La verità, le bugie e le statistiche, che non sono altro che la somma delle altre due. Osea, puoi dire il cavolo che vuoi, devi interpretarlo. Dov'è la nostra problematica? Che non sappiamo bene i treni del mercato, cosa il cliente funziona. noi abbiamo una problematica importante sui dati. Siamo 50-50, italiani, stranieri, non va bene. I nostri competitor sono a 70-80-60 del mio cliente internazionale. soltanto con questo riesco a allungare la stagione. Perché l'italiano fa vacanza nel mese di luglio e agosto. Pertanto, noi dobbiamo cominciare a ragionare sul fatto di, non dico diminuire, ma incrementare i nostri mercati, sia come mercati geografici, come anche come segmenti di mercato e come prodotti di mercati, per allungare in qualche maniera la stagione. Più che allungare la stagione, che è un concetto ormai vecchio, creare nuove stagionalità, perché quando uno va a camminare non cammina nel mese di agosto. O va in bicicletta. Pertanto, il ragionamento un po' è questo. C'è un modello sardo? Sì, ma è tutto da scrivere e ancora da sviluppare. La chiave non è soltanto noi. La chiave è che noi dobbiamo cominciare a capire che c'è una cosa che si chiama mercato. E che il mercato funziona con dei parametri specifici, concreti, sia in marketing, commercializzazione, ma soprattutto in pubblicità. provotto. Ti ho risposto? Sì, hai detto niente. Quello che ci manca è il mercato, la percezione di come funziona un mercato. Confrontarci, soprattutto, noi continuiamo ad aspettare il cliente, un problema italiano. Noi aspettiamo, noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese straordinario, dove i turisti hanno arrivato per anni. C'è un dato interessante che non dimenticavo. Allora, con l'offerta di posti diciamo, in aereo che abbiamo avuto l'anno scorso, noi, diciamo, al netto del collegamento in continuità, e famose in continuità, Milano e Roma, i nostri aerei non vengono pieni, vengono a un 75% di load factor. Vuol dire che in ogni aereo ci sono ancora 30 posti di media. Noi possiamo crescere ancora a un 30% in più senza toccare molto di più. e il problema è che quelli clienti che noi non vecchiamo qualcuno se li porta via. Perché? Perché si danno da fare. Noi siamo molto lenti, continuiamo a aspettare e ancora a ragionare con dei modelli, con dei canoni che sono vecchi. diciamo che i dubbi mi continuano a crescere rispetto a queste risposte che hai date. Non so cosa ne pensi il resto della platea. Luca, l'hai accennato nella prima risposta che hai dato sotto in questo scenario il ruolo di catene di importanza internazionale quale potrebbe essere? Lo potrebbero percepire come delle opportunità uno scenario del genere o preferirebbero starsene sulle loro? A mio avviso le catene percepiscono un po' lo scenario come incerto. Se si va a vedere un pochino come gestiscono le catene internazionali in Sardegna le proprie strutture mi sembra ce ne siano solo uno o due di proprietà di una catena estera. Le altre sono tutte tramite management contract franchising addirittura proprio se ne lavano le mani in quel caso e fanno affitto della struttura quindi lease. Quindi sono un po' scettiche sotto a questo aspetto ma semplicemente per un motivo se andiamo a vedere le statistiche buona parte degli alberghi di catena se non mi sembra il 95% e oltre sono tutti alberghi sun and beach era nella slide precedente quindi cosa vuol dire questo? Che sono tutti alberghi stagionali estivi dovevano fare un contratto di 3-4 anni e poi valuto o meno se rinnovarlo quindi a mio avviso è proprio percepita in maniera importante questa incertezza qui anche perché poi alla fine gli alberghi più importanti sono quelli di Marriott in costa a Smeralda a livello di catena come sun and beach il pullman di Timiyama di cui parlavamo prima in due investimenti importanti che ha fatto Falke Steiner che intravede ad esempio al contrario degli altri il target famiglia come un target famiglia adatta la Sardegna adatta come questo target loro riferimento e quindi adatta a fare questo investimento nel Torre Chia che era gestita a livello privato prima brandizzandola in un'operazione che non è chiarissima se abbia acquisito la struttura ancora o sia solamente il lease non è chiarissima loro dicono di sì la vecchia proprietà dice di no quindi è ancora da capire magari è un 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 rent to buy una sorta di operazione gestita contratualmente questo tipo di cui non dobbiamo saperlo è chiaro che ci vorrebbe un maggior supporto da parte delle catene internazionali semplicemente per un motivo la principale caratteristica delle catene internazionali penso a Marriott è questa è capace di portare clienti del suo paese di origine quindi è capace portare clienti degli Stati Uniti Eden Family A che da anni cerca strutture da poco ne parlavo col direttore finanziario mi diceva che loro stanno cercando strutture per aprire delle sorte di franchising perché poi non sarebbero in grado di gestirlo però comunque sia con una loro partecipazione attiva perché c'è tutto il mercato dell'America Latina che vorrebbe arrivare in Sardegna per ristorazione balneare così via un po' di tutto e quindi lui non mette sul piatto solo l'aspetto puramente del mare della bellezza naturale sotto questo aspetto qui però non trova ad esempio un operatore sardo che sia disposto a fare questa quest'unione con loro quindi alcuni vorrebbero perché hanno davvero molta richiesta sotto questo aspetto e vorrebbero svilupparsi le caratteristiche strutturali medie di cui parlava Paolo delle dimensioni delle strutture ricettive dovrebbero essere adatte per determinate tipi di catene sì per altre no puntano ad alberghi un po' più piccoli perché tutte le strutture che sono state fatte molto grandi in questi anni hanno dei costi di gestione enormi quindi quando dovrebbe aprire un periodo di tempo molto limitato penso alberghi in cui si sono divertiti a fare giardini su giardini impianti irrigazione su impianti irrigazione e poi hanno avuto dei problemi nel capire quanto mi costa gestire tutto questo cioè è chiaro se riesco a trasformare in attrattori magneti tanto di guadagnato pochi ci sono riusciti fino a questo momento mi viene sempre in mente poi la Ruatax Park che alla fine ha utilizzato il parco come attrattore fondamentale per il suo turismo di questi anni se no era davvero un costo che stava distruggendo totalmente il bilancio grazie Paolo l'anno scorso tu dei quattro sei l'unico che ha partecipato a una per il turismo lo scorso anno e sei intervenuto nel primo di quelli che abbiamo fatto che era focalizzato sul tema del balneare ne abbiamo parlato già stasera più volte nel piano strategico regionale il tema del balneare è interpretato come tra virgolette troppo generico ancora generalista con l'obiettivo di renderlo più specifico e più dettagliato su target su mercati e cose di questo tipo questa cosa succederà succederà bisogna lavorarci bisogna crederci abbiamo un vero problema che è la nostra più grande forza proprio il balneare cioè il vero problema della Sardegna è che oggi lavorando due mesi crei la redditività per campare un anno il problema è tutto lì se ancora avessimo più difficoltà a portare a casa i numeri tra luglio e agosto probabilmente ci spaccheremmo la testa tutti quanti per arrivare ad avere una redditività a maggio una redditività superiore ad aprile e così via mi collego al discorso delle catene le catene fanno i conti molto brutalmente e quando devono rischiare milioni di euro su margini molto ridotti che pur ci sono è ovvio che o si va su una fascia altissima e questa è la spiegazione perché le uniche catene che noi abbiamo internazionali sono su fascia altissima oppure rinunciano perché la catena non ha quelle gestioni ambigue che può avere un piccolo albergo dove la mamma cucina e il babbo quindi quindi la catena ha una struttura organizzata con costi di organizzazione di gestione di un certo tipo e questo impedisce di essere fruibili e vendibili a livello di catena quando il prezzo medio è bassissimo tant'è vero che i due poli che sono la Costa Smeralda e Fort Village sono gli unici che lavorano con gli americani fanno tutti e due 80 milioni circa in 5 mesi 6 mesi con un numero di presenze veramente limitato quindi un revenue altissimo da questo punto di vista anche lì parto dallo spunto di Joseph di prima ci vendono gli altri ha ragione il mercato ideale oggi dopo si parlerà di revenue è quello che è tu hai un quarto un quarto un quarto un quarto cioè un quarto me lo vendo da solo online un quarto me lo vendono i tour operator online un quarto me lo vendo da solo offline un quarto me lo vendono i tour operator offline in realtà oggi siamo a 80% di intermediato 10% di repeaters che ritornano tutti gli anni e 10% che riesco a vendermi tutti gli anni quindi io guadagno un piccolo pezzettino ricordiamoci che comunque da tutte le ricerche uno su due dei nostri turisti è già stato in Sardegna quindi abbiamo una percentuale di repeaters altissima quindi vuol dire che noi dobbiamo essere in grado quindi incrociando i due dati vuol dire che i repeaters continuano a vedere intermediati ed è una follia se ci pensiamo cioè noi abbiamo repeaters al 50% e poi l'intermediato vuol dire che abbiamo un 30% di repeaters che continuano a venire con l'operatore e se voi fate un ragionamento semplice sociologico su questa cosa vuol dire che il repeater non ha avuto abbastanza fiducia negli imprenditori nel territorio per prenotare direttamente la sua destinazione è questo che noi dobbiamo fare è questo che noi dobbiamo andare a cambiare il nostro modello perché altrimenti rimarremo comunque uno dei prodotti in una lista della spesa infinita che è quello dei grandi tour operator o di booking che si vanta c'è un milione di strutture ricettive in vendita booking ne frega niente di vendere Sardegna o Madagascar booking ne frega di fare un ritorno economico adeguato quindi dove c'è una percentuale di commissione maggiore lo mettiamo nell'algoritmo un pochettino prima in tutto questo cambiamento le nostre strutture stanno lavorando il dato qual è? i numeri devono rimanere assolutamente anzi devono ancora crescere sia quelli del balneare ma e degli italiani prendendo i due parametri che ci hanno fatto crescere nei primi 50 anni del nostro turismo ma devono pesare proporzionalmente meno la vera sfida è fare in modo che crescano ma pesino proporzionalmente meno nel nostro paniere di turisti che vengono in Sardegna e tutto questo lo fai creando motivazioni di viaggio ugualmente valide nell'ultima BTO presentato da Giulia all'ultimo panel c'era ospite il Cavallino Bianco un posto dove quando c'è andata mia nipote per due anni ha continuato a parlare di Cavallino Bianco e non gliene fregava nulla delle Delomiti non sciava non faceva niente è andata in una struttura che è riuscita ad essere da sola attrattore e motivazione di viaggio semplicemente accontentando alla perfezione un segmento che per di più è il nostro segmento principale il segmento famiglia quanti Cavallino Bianco ci sono in Sardegna oggi? zero non c'è tra l'altro loro cercano di investire in Sardegna ha contato lui e ha provato poi c'è mai più le tre tentativa con una trove difficoltà assolutamente perché non cercano di rilevare qualche spagna sì sì capo poi quindi il motivo è questo se il nostro mercato di riferimento non riusciamo ad avere un'eccellenza assoluta nel nostro mercato di riferimento evidentemente non abbiamo ancora preso di petto scusatemi la semplificazione quello che deve essere il nostro nuovo modo di operare quindi io devo andare in maniera preponderante su dei segmenti e farli crescere ricordandoci sempre che l'attrattore principale è il marino balneare ma dal mio punto di vista l'attrattore immediatamente dopo che può essere venduto è l'ambiente naturale cosa voglio dire e qui chiudo che l'unica strada che noi vediamo è quella di sì bicicletta ma in Sardegna che è un ambiente particolare con un clima di un certo tipo con una scarsa come si dice presenza antropica quindi grandi spazi poche persone molto relax questo è il nostro valore aggiunto che noi possiamo mettere su tutti i cluster se noi non arriviamo a organizzare il prodotto in questa direzione lo ha detto poco fa anche Luca alberghi da 400 camere non ci vuole andare più nessuno nessuno di noi vuole essere uno di mille forse uno di cento uno di cento e cinquanta perché vuoi avere un po' di movimento però dobbiamo anche capire che il nostro prodotto per diventare appetibile deve diventare campione in tanti piccoli segmenti non niente può sostituire il balneare con quei numeri e con quelle dimensioni ma dobbiamo usare quel driver per permetterci di creare tante piccole nicchie molta più difficoltà molto più complicazione però è ora che cresciamo nel nostro modo di lavorare grazie mi sembra assolutamente lampante questa osservazione adesso in tutti i piani di sviluppo territoriali che mi è capitato di leggere di studiare questo tipo di osservazione almeno quelli più recenti ci sono quindi il tipo di analisi è stata condotta in maniera appropriata sono stati individuati i diversi ambiti sui quali intervenire poi però queste cose faticano a succedere allora chiedo a voi due che avete l'esperienza di pochi mesi o di poche settimane fa e che peraltro vi capiterà in futuro di continuare a fare cose simili non so se in Sardegna me lo auguro o in altre parti d'Italia lo snodo dov'è perché poi l'analisi la fai individui quello che è corretto da eseguire e poi le cose non succedono allora sono d'accordo con le cose che sono state dette come enunciazioni strategiche da chi mi ha preceduto sia Paolo che il professor Rosai che il professor Lejar però vorrei sottolineare un fatto comportamentale culturale profondo abbiamo bisogno di discontinuità se si fanno le stesse cose è folle diceva un personaggio con la capigliatura abbastanza appariscente che è inutile aspettarsi che cambiano le cose se si fanno sempre le stesse cose la Sardegna fatica in questa discontinuità ci sono come dire categorie di pensiero a Nuoro c'è anche una piazza dedicata su Cornotto quindi c'è proprio la necessità di fare uno sforzo in questa direzione penso che lo sforzo da fare in questa direzione più forte sia quello di rompere i silos il pubblico che sta per i fatti suoi che guarda con sospetti privati i privati che non possono più del pubblico sono delusi da qualunque o in gran parte delusi da qualunque polisi e quindi giustamente fanno opportunisticamente e lo dico con significato positivo quelli che sono i loro interessi anche se molti rivelano anche i grandi gruppi sardi rivelano una fenomenale responsabilità sociale forse il primo che è in Sardegna che è in Sardegna ha fatto una politica di valorizzazione delle economie interne e territori è appunto un grosso gruppo sardo della della Gallura poi dopo questo è diventato uno stile di lavoro di molti altri strutture della Sardegna più o meno importanti più o meno grosse cioè occorre fare uno sforzo di formidabile cambio di passo di formidabile cambio di visione bisogna appunto fare in modo per esempio giusta la denuncia insomma l'osservazione di Ejark che si vada all'estero è preoccupante vedere che l'ETB di Berlino ci sono 30 operatori e lo stesso succede o quasi in proporzione al TTG di Rimini che invece appunto è un'ora di volo su un grosso mondo su questo ci sono delle responsabilità diffuse c'è una storia forse negativa di paternalismo pubblico che non ha incentivato in maniera corretta e probabilmente c'è un calcolo più o meno cortomirante di alcuni operatori che non capiscono che bisogna buttare il cuore dell'ostacolo ma c'è anche un altro fatto e anche questo è un discorso di discontinuità e secondo me questo è molto vicino agli argomenti che vi stanno a cuore più delle mie preoccupazioni economiche e sociali che dicevo prima insomma è che è un fatto di narrazione la narrazione da quando il digitale è diventato un tutt'uno con l'economia del turismo ormai questa è una cosa di più di dieci anni o forse anche quindici ormai la narrazione è diventata una tecnica e un modo di porsi di ingaggiare di rivolgersi di parlare di ascoltare il tuo cliente che decidi di servire ovviamente molto potente sappiamo che è diventato molto più potente il marketing inbound cioè quello che facilita il processo di narrazione fatto dal tuo cliente che è il marketing outbound che è quello che tu spendi dei soldi per diventare noto visibile e importante su questo se uno fa ma chiunque ma anche degli studenti presenti qui lo possono fare andate a verificare i canali in cui la Sardegna è comunicata sia a livello regionale che a livello dei diversi territori del canale di commercio delle province e anche di molti operatori vedrete che la narrazione è fatta sostanzialmente di un unico contenuto monotematico che è giusto da un punto di vista del business ma è una carenza strategica dal punto di vista della prospettiva non abbiamo nessuna narrazione strutturata e ovviamente combinata con l'offerta strutturata di territorio su cultura su ambiente sui straordinari paesaggi che abbiamo sul fatto che oggi le più recenti ricerche ci dicono che il vero russo non è la Ferrari a Milano Marittima ma è godersi il silenzio conosco un albergo a 5 stelle in Sardegna di cui non faccio il nome dove le persone pagano l'ira di Dio per godersi il silenzio quindi su queste cose bisogna proprio fare uno sforzo di cambiamento che questi appuntamenti si utili ma credo che bisogna soprattutto mettere in gioco incentivi sforzi spinte meccanismi spintanei come a volte si usa dire per aumentare il tasso strutturato di collaborazione pubblico privata perché le destinazioni di successo sono queste chiunque vada a esaminare la storia delle destinazioni di successo spagnole francesi svizzera anche quello che avviene in molte realtà del Mediterraneo è quello il dato la costante poi c'è chi lavora meglio chi si è inventato però quello è il dato è la costante qui noi abbiamo un tasso di cooperazione pubblico privato purtroppo non continuativo non crescente ma a strappi a momenti e non sempre in maniera lungimirante secondo me e poi a volte ci manca un po' il coraggio c'era un signore che diceva che il coraggio porta con sé audace successo facendo il lavoro degli amici del nuorese la citazione è dovuta perché era un santo e l'ambiente lo richiede ho scoperto non lo sapevo ignoranza mia data l'età che mi ritrovo che per esempio fanno turismo invernale sciistico a Creta quando io ho scoperto questa cosa sul sito facendo un po' di benchmark per il lavoro che stavano facendo le nuove soliastra che lì fanno vanno a sciare d'inverno come possono andare a sciare e poi scopre che in Italia sono molti altri che combinano turismo balneare con montagna estate e inverno l'Abruzzo fa parte di questa cosa il Friuli fa parte di questa cosa mi domando perché no sono usciti in questi giorni articoli che esaltano il generagente noi abbiamo proposto di fare del generagente un brand perché ha una caratteristica geologica e antropologica assimilabile alle dolomiti certo ha altezze diverse però ha comunque scenari e fattori antropici e culturali di uguale e grande importanza ed è anche un formidabile tratto unitario della Sardegna dell'interno e della Sardegna centrale su cui si può lavorare quindi mercato quindi capacità di guardare diverso è una grande forza di discontinuità di innovazione di cooperazione pubblico privata grazie allora un piano strategico di qualunque volume piccola destinazione grande destinazione eccetera non è in automatico la salvezza di nulla perché normalmente soprattutto in Italia che qual è il problema che abbiamo puoi scrivere fare eccetera sul piano strategico è stato un bel lavoro perché alla fine ci abbiamo lavorato molti di quelli che siete qua più di 680 persone e il vero problema è che una volta e qual è il risultato un piano strategico operativo chiamalo come vuoi alla fine non è altro che in qualche maniera come dire il navigatore che ti dice dove devi andare ma c'è un elemento fondamentale che devo di andarci qual è il nostro problema che si fanno e dopo nessuno fa nulla questo è il vero problema quello che noi non capiamo nel turismo è che questo è economia a me mi piace in qualche maniera ragionare sul fatto che tutto il turismo della Sardegna è come se fosse una grande azienda con tanti centri produttivi un'azienda se non hai operatività tutti i giorni non producì reddito revenue come c'è mio amico Paolo allora l'elemento fondamentale è quale nel nostro caso concreto che abbiamo fatto un lavoro tutti assieme bene più o meno sappiamo in questo momento dove vogliamo andare l'elemento importante del piano che abbiamo fatto è diciamo tentare di mettere come dire perché uno di noi funzioniamo qua molto a pancia per un certo periodo tutti parlavano male del balneare giustamente noi siamo stati in azione balneare e grazie a Dio che c'è e deve continuare a esserlo perché le camminate perché il golf eccetera mi va tutto bene mi aiuterà sicuramente ma non posso riempire tutta la mia non posso arrivare a nove mesi di attività economica soltanto con il balneare o soltanto con alcuni prodotti qual è l'elemento fondamentale qua abbiamo in questo modo diciamo in questo modo avere una visione più o meno condivisa sappiamo dovevamo andare ma dobbiamo ragionare e ha ragione Giacardi su una logica del pubblico privato sia a livello regionale come a livello territoriale con qualcuno io mi piace sempre ragionare con la logica del commerciale o del commesso viaggiatore che lunedì mi prende l'aereo e mi va come dite voi alla penisola e comincia a lavorare a visitarmi alle agenzie mi vado a trovare i tedeschi ho visto un meno 30% i tedeschi ragazzi preoccupiamoci quanti di voi hanno preso l'aereo e sono andati a trovare i tedeschi per vedere cosa succede l'elemento fondamentale è questo pertanto la collaborazione noi purtroppo non avendo piani diciamo nuorese e quelli che vogliono fare nel sud del Sardegna eccetera e va bene tutto il ragionamento fondamentale è che noi abbiamo bisogno di passare dal piano all'azione e l'azione vuole dire collaborazione pubblico privata con criteri assolutamente di business noi dobbiamo di uscire della logica che il turismo è vogliamo inci tutti bene è una roba facile questo è business puro i nostri competitor vanno con il coltello fra i denti e se ci possono fotere un cliente ce lo fotono scusate l'inglese pertanto noi dobbiamo in qualche maniera di scusate no vabbè l'avete capito l'inglese no? sì il ragionamento fondamentale è quello pertanto dobbiamo ragionare con una logica di attività e operatività non quello che mi piacerebbe non quello che io vorrei perché io vorrei essere un figaccione come George Clooney ma non lo sono quello che posso far essere quello che posso diventare d'accordo come il mercato e il trend del mercato sta andando e tenendo conto che la tutazione mia dopo di aspettavo una reazione dei miei competitor siamo in un mercato aperto questa è la realtà dei fatti avete parlato a più riprese di collaborazione pubblico privato hai parlato della necessità di intervenire sui mercati in maniera professionale in maniera business a portata di mano ovviamente a pochi centimetri da questi temi c'è il tema della DMO DMO regionale DMO locali territoriali vari livelli non è che concentrando tutto su una struttura organizzativa come una DMO si perde un minimo di flessibilità di varietà nelle possibilità insomma tutti questi lavori che tu hai fatto questi 680 poi nelle DMO continuano a svolgere questo loro ruolo o si struttura tutto in maniera un po' troppo gerarchica un po' troppo burocratizzata e se ne perde l'efficacia o la ragione per cui sono state costituite allora guarda le DMO sono tutti esperti ciao allora che cos'è una DMO una DMO non è altro che un soggetto che ha una funzione fare la gestione e il marketing di un territorio turistico non è un soggetto politico punto uno una DMO non è politica esatto hai ragione arrivata allora una DMO è un soggetto dove all'interno una DMO per capirci dicendola molto molto semplicemente non è altro che il dipartimento commerciale e di marketing di un territorio di un sistema e ha una funzione per rendere la valigetta o reale o virtuale per andare sul mercato o a comunicare promo commercializzare che non commercializzare o vendere che questo lo fanno gli operatori e lo fanno i canali di commercializzazione se uno dei problemi che abbiamo noi nel turismo in Italia è che tutti fanno tutto ma quasi nessuno sa di che cosa sta parlando cioè dobbiamo tenere conto di queste quando lui giustamente diceva prima i nostri competitor sono molto più avanti da noi scusate c'è qualche presidente o un membro di una proloco qua? non che non me lo mangio è tranquillo scusate io ho un assoluto rispetto per le proloco per il ruolo delle proloco ma noi possiamo tener conto che un sistema turistico in generale la proloco è un stakeholder mi spiego? perché è business cioè quando a me mi è successo quando in una fiera vai e ti arriva dalla proloco e ti arriva al signor dei tuoi e lo metti in contatto con il della proloco ti dice ma scusi partita IVA come faccio il prezzo disponibilità no noi no mi spiego? dobbiamo tenere conto che l'approccio che dobbiamo fare è questo allora il ragionamento rispetto a quello che dicevi rispetto alla DMO la DMO non è altro che un soggetto operativo perché c'è un elemento fondamentale dipende del modello di DMO che stiamo ragionando in Italia le migliori più avanzati sarebbero di terza generazione all'estero siamo già quinta generazione di modello e il nostro problema fondamentale è che oggi con la specificità diceva prima già Cardi tu devi fare narrativa social digitale eccetera hai bisogno di professionisti che purtroppo non le abbiamo all'interno delle amministrazioni perché è cambiato da quella professionalità non c'è bisogno di queste professionalità pertanto la DMO non è altro che un soggetto si può dire così a disposizione del territorio dell'amministrazione e degli operatori e beh gestita e governata ma deve avere visione chiara indirizzi specifici e soprattutto e lì dove c'è un grave problema esigerle dei risultati perché noi non siamo abituati alle misurazioni facciamo un'ipotesi se la prospettiva è che avremo un meno 30% di tedeschi ipoteticamente la DMO è dire se senti riduciami col 30% questo è l'elemento fondamentale pertanto la logica è che noi dobbiamo cominciare a ragionare che il sistema turistico è un sistema è una rete è un grande supermercato nei supermercati Sardegna in realtà è turisticamente come un supermercato centinaia di alberghi attrattivi eccetera scafali uguale nel supermercato c'è qualcuno che mette il prodotto quando è vuoto ti fa il cartellone dicendo cucina il pane lì in fondo perché l'odore ti arrivi a noi ci manca tutto questo sistema è qualcuno che ci lavori quotidianamente Paolo secondo te io immagino che la componente privata condivida assolutamente al 100% questo tipo di visione direi di sì abbiamo colpa grave nell'istituzione del DMO nel senso che quell'articolo l'abbiamo scritto difeso battagliato e fatto inserire nella legge regionale insieme a quello del codice univoco dell'extralberghiero quindi sono due dei pochi risultati positivi che siamo riusciti a portare a casa nella precedente legislatura per noi è indispensabile perché io uso un'altra variante un altro punto di vista sull'ADMO che è quella del tempo io stamattina ho fatto una cartella nel mio computer che c'era scritto 2020 quindi 2020 dove ci ho buttato dentro i listini prezzi dei gruppi del 2020 che sono già fatti da un mese e mezzo come pensate che io possa aspettare i tempi della politica quando oggi sto contrattando il lavoro di fine del prossimo anno quando entro luglio avrò chiuso tutti i contratti con il tour operator quando avremo deciso tutta la politica tra rifaria tutta la strategia della nostra azienda nello specifico e quindi della destinazione perché i miei colleghi fanno lo stesso come possiamo pensare di andare a recuperare quel meno 30% o il meno 15% sulla Francia o il calo di circa 17% di ricerche sulla Sardegna dall'Italia come pensiamo di andare a gestire un early booking che è andato un po' meglio e un luglio che va bene rispetto a agosto che ancora non si capisce nulla maggio che sarà un bagno di sangue ad avviare dei correttivi parlando con la politica con i modi e i tempi di oggi cosa faccio? vado anche il miglior assessore anche Nembo Kid messo come assessore gli dico guardi c'è questo problema prima che fa una delibera anzi prima che capisce con quale dei funzionari deve parlare crea la struttura Giulia ne sa qualcosa per una vaga frequentazione di quegli uffici da cui è scappata da cui è scappata cioè signori prima di riuscire ad agire e a poter modificare di un millimetro quella che è la stagione non abbiamo finito la stagione 2019 abbiamo finito la stagione 2021 la DMO mi garantisce un causa-effetto molto più limitata mi garantisce non di avere i tempi del privato ma di esserci molto più vicino mi garantisce di poter lavorare su quello che serve nell'immediato e non con una programmazione a cinque anni che deve rimanere in capo alla politica cioè la visione quello che abbiamo chiesto prima delle elezioni con le nuove elezioni è proprio questo cioè tutti diciamo quella famosa ricerca delle fondazioni di Sardegna tutti i Sardegni viviamo di turismo credeteci metteteci i chip quando andate a discutere a fare il bilancio regionale date tutte le indicazioni perché si vada tutti nella stessa direzione e la DMO è una cosa da cui non si può prescindere poi capisco che alla politica venga male privarsi cedere potere perché il vero cruccio della DMO è uno solo la politica deve cedere potere a un soggetto terzo che non è espressione totale della politica ma di fatto è nominato dalla politica ed è diciamo la casa dove coabitano anche i privati e si danno dei tempi da privati cioè ha dei modi di fare da privato questa è l'unica soluzione che ci può permettere in tempi ragionevolmente brevi di variare questa nave sono un tempo le grandi navi avevano le eliche dietro quando dovevano girare dovevano partire da 100 chilometri e poi riuscivano a invertire la rotta oggi no ci sono le eliche di manovra ecco ci serve un'elica di manovra a prua e a poppa e con l'elica di manovra abbiamo portaerei che girano su se stesse noi la DMO la dobbiamo trasformare nella nostra elica di manovra nella nostra capacità di rispondere al mercato in maniera rapida perché altrimenti siamo ancora una volta fuori dal tempo e continuiamo a fare quello che è stato fatto sino ad oggi che qualche mio collega un pochettino più presuntuoso un pochettino più datato diceva il turismo siamo noi perché? perché per 50 anni è stato delegato la promozione l'organizzazione del turismo agli albergatori che bravi o non bravi lo hanno fatto ma non può succedere questo perché oggi non basta più non basta più noi non ce la possiamo fare noi stiamo alzando la mano dicendo ok siamo in mezzo noi ci siamo è palese che senza di noi il meccanismo non funziona ma noi non bastiamo e nel momento in cui veramente sarà percettibile il fatto che noi non bastiamo più ci saranno i cadaveri per strada avremo tutta una serie di problematiche di cui ne pagheremo un prezzo altissimo oggi siamo ancora in tempo però allo stesso tempo occorre fare delle scelte importanti e questa è una di quelle siamo arrivati al via dobbiamo sparare il colpo e partire nella corsa altrimenti rischiamo ancora una volta di essere indietro di 10, 15, 20 anni rispetto al resto del mondo grazie esatto una delle novità insomma delle cose che stiamo cercando di correggere rispetto al modello dell'anno scorso è il fatto di consentire una maggiore interazione con le persone che partecipano a questi api di turismi per cui se qualcuno vuol fare un intervento una domanda o delle osservazioni rispetto a quello che è stato detto questo è il momento altrimenti io faccio un'ultima domanda a loro quattro velocissima ma la dobbiamo fare Paolo aspetta che ti avvicino il micro grazie va bene non sto a ripetere non faccio considerazione perché vabbè sono stato rappresentato alla mia azienda tra quei 680 che hanno partecipato al processo della DMO quindi poi concordo anche con l'analisi antropologica che ha fatto il dottor Giaccardi poi la parte su piazza su Connotto io sono un rese di origine quindi insomma non vorrei avviare un diverbio su questo a parte gli scherzi c'è una parte sui dati che continua a mancare secondo me negli eventi settoriali che a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno ed è quella relativa all'analisi qualitativa cioè al netto dei dati numerici no sugli arrivi mi sembra che manchi tanto questa parte qui cioè dell'analisi qualitativa la profilazione sapere esattamente chi sono i nostri clienti qual è il nostro target come lavorare poi per ottimizzare anche le attività di marketing online in questo caso cioè come li andiamo a pigliare questi qua dall'estero cioè quanto conosciamo i nostri clienti in quest'ottica riusciamo poi andare a recuperarli perché sulla base di questo poi io posso lavorare su mi manca l'offerta turistica cioè questi vengono e sono insoddisfatti cioè tutti quelli che non tornano perché non tornano è scandaloso quel dato piccolo inciso dei repeaters che vengono intermediati ma è impossibile questa roba cioè un assurdo totale quindi profilazione analisi qualitativa dei flussi se possiamo così dire anche all'interno della Sardegna cioè capire anche le dinamiche in qualche misura comportamentali cioè quindi la profilazione include anche quella parte lì e vorrei capire quanto questa parte incide appunto nella soluzione del problema quindi allungamento della stagione se così si può dire anche raggiungere delle nuove nicchie di turismo che su cui finora non possiamo non contiamo essenzialmente grazie chi risponde allora oggi il mercato turistico come gli ho detto la domanda turistica è assolutamente verticale la complessità della nostra società fa che lo stesso turista diventa turista balneare in un determinato momento ma con lo stesso soggetto due mesi prima magari è una passata di bicicletta e si fa la vacanza di bicicletta pertanto noi abbiamo bisogno di approfondimento verticale non tanto quantitativo noi continuiamo a ragionare molto sulla quantitatività l'elemento importante qua è il dato qualitativo non tanto faccio un esempio gli albergatori storicamente sempre hanno detto che non contano la rivista che contano le presenze dico bene questo era prima perché oggi c'è un problema con la diminuzione della permanenza media non in Sardegna generale in tutte le destinazioni vuole dire che gli operatori e le destinazioni dobbiamo incrementare gli sforzi per portare più turisti per avere il stesso numero di permanenze o di presenze che avevamo prima bravissimo il dato importante è il prezzo l'average rate ok uno pertanto dobbiamo anche ragionare che i vecchi dati dicono ormai molto poco dobbiamo cominciare a ragionare sulle nuove KPI e questo manca evidentemente perché non siamo abituati noi continuiamo a ragionare sulla logica di arrivi di mercati regioni eccetera per fare strategia vera sia a livello territoriale di destinazione come anche a livello proprio aziendale ai bisogni dei dati verticali soprattutto anche perché se io voglio andare a pescare determinati clienti o segmenti della clientela devo di capire come si comportano che cosa vogliono dove li trovo eccetera e devo ragionare in questa logica noi dobbiamo cominciare a smettere di pensare come albergatori e dobbiamo cominciare a ragionare come se fossimo di turisti soltanto così dai il servizio adeguato che il cliente ti cerca e le puoi andare a presentare la tua proposta nel linguaggio e nelle chiavi che questo soggetto sta cercando una domanda considerato il problema che abbiamo i dati degli individuali che non passano a materia economica danno i dati con il ritardo gli enti regionali ognuno si organizza come gli pare e sono dati che ci servono fino a un certo punto è vero quello che dice giusto il confronto il benchmark non mi sono messa perché non ho né le competenze né mi metto sicuramente però guardando effettivamente ottobre da 4% a 5% sarebbe stato giusto vedere perché perché quello è un dato veramente molto importante uno dice 1% però in realtà caspita non è mai successo negli ultimi 5 anni chi lo deve fare questo dei dati considerate la situazione attuale perché anche noi li vogliamo questi dati motivazionali perché se no non capiamo nulla c'è una regola dai nostri paesi competitor i dati se ne occupano le amministrazioni o regionali o centrali e funzionano l'ho detto prima anche Giacardi anche dati motivazionali anche dati di target assolutamente sì assolutamente sì e in Italia chi è? una regione che lo fa in maniera così granulare chi è e come lo fa? non la conosco ah va bene mentre in Spagna a livello centrale nazionale questo succede guardate il 31 te lo dicevo prima è il 31 di Olinese sulle Baleari ti arrivano i dati sia in Spagna come in Francia i dati di arrivi turistici internazionali di quel stesso mese per target è più difficile no 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 ti arrivano hanno diversi segmenti famiglia eccetera gente che ti arriva con i voli low cost hai una marea di dati che riesci a gestire ma li hai in Inghilterra li hai che io sappia Inghilterra Svizzera Francia e Spagna e Austria i nostri competitor non è non è tanto difficile volevo due battute su questa ultima osservazione di Giulia le cose del Tejar che anche sulla domanda che ha fatto prima il nostro amico che ci siamo conosciuti in Orese allora io credo siamo un po' obbligati in Italia in generale ma anche probabilmente qui in Sardegna a fare necessità di necessità e virtù cioè oggi tutti i mercati ma in modo particolare il turismo è data driven quindi se i dati non ce li danno io potrei non lo faccio per ragioni di correttezza ma sono regioni che nel mondo dei big open data chiudono i dati non li mettono disponibili e se tu provi a trovarli e a parlarli ti mettono ai margini come se fossi un monatto ecco quindi l'Italia è anche messa così qui no qui abbiamo un problema dicevo prima che abbiamo una scarsa qualità di rilevazione per tematismi quindi non riusciamo a capire se possiamo o meno sviluppare delle cose in maniera sufficiente però c'è una cosa che possiamo fare nella logica della necessità di virtù e che non è ancora stata fatta io ce l'avevo provato con gli amici di Nuoveso di Astro non ci sono riuscito bene ma anche perché sono stato sovrastato da altre priorità che mi sono state un po' anche imposte altrimenti io sono una sorta di cometa non faccio un pezzo di lavoro poi lo devo lasciare lì sperando faccio in tutto perché funzioni non faccio il dipendente però possiamo riunire la comunità digitale di questa regione le imprese i ragazzi gli appassionati i freelance che si occupano di digitale in chiave di strumenti analisi in chiave di sviluppo software in chiave di web marketing metterli in contatto con loro io credo che dal di lì senza voler creare assolutamente un altro silos sia chiaro tutt'altro noi possiamo mettere in campo una task force che è in grado di andare a scoprire molti dati e rendeli pubblici perché chi lavora su digitali conosce il valore strategico del dato aperto le amministrazioni pubbliche e purtroppo a volte anche molti operatori privati pensano esattamente in contraria e non sono ancora nell'economia della conoscenza che prescrive anzi prevede assolutamente la disponibilità dell'informazione perché se scambiamo due informazioni io e lui prima abbiamo informazioni a test e dopo ne abbiamo due per ciascuno quindi il suggerimento è fate uno sforzo a cominciare anche dal vostro consorzio per riunire la comunità digitale che ho sinteticamente schematicamente accennato prima mettetele in comunità in comunicazione tra loro e lì dentro possono dire cose straordinarie anche perché abbiamo un altro problema di discontinuità e lo posso dire dall'alto della mia età avanzata abbiamo bisogno di dare spazio a chi è and a 35 ma in maniera proprio radicale non possiamo aspettare di avere tutti l'età dei giapponesi e sperare che il nostro pil decolli non succede questa cosa è certo e dobbiamo anche trovare n occasioni per fare in modo che chi ha studiato o è stato fuori possa ritornare ma trovi qui delle cose interessanti da fare la comunità digitale ampiamente intesa può offrire a questo può offrire mille opportunità anche una guida turistica brava una guida ambientale brava può essere un operatore digitale perché usa digitale per fare il proprio lavoro e anche per campare e comunque ci si interfaccia ecco su questo bisogna accelerare bisogna spingere e bisogna fare in modo che si crei un interlocutore terzo che oggi non c'è in mezzo all'operatore pubblico e all'operatore turistico strettamente inteso ringrazio cito solo due esempi sull'analisi del dato che si parlava prima le banche sarò velocissimo le due principali banche italiane intese Unicredit intesa ha fatto uno studio proprio sulla spesa media in Sardegna quei famosi 86 euro che il turista spende mediamente in Sardegna quando il report sul Mediterraneo danno 118 il report del turismo enogastronomico danno 124 quindi diciamo che abbiamo margini di manovra facendo cose semplici e possiamo far crescere il nostro il nostro revenue individuale l'altro dato è Unicredit che sul già citato Travel Appeal di prima ha messo dei soldi dentro Travel Appeal e ha fatto perché ci ho partecipato anch'io direttamente in Sardegna ben tre focus con un'analisi che è quella che fa poi Travel Appeal del sentiment sugli attrattori della regione sulla percezione e quindi lo hanno introdotto anche nelle valutazioni di merito creditizio della destinazione della singola attività quindi qui voglio essere il più positivo possibile si sta comunque e forzatamente andando verso questa direzione nonostante tutta la voglia e la volontà troppo spesso della politica di rimanere fermi e di conservare le cose così come sono di fatto il mondo si sta evolvendo comunque e nel momento in cui gli operatori importanti come le banche vanno in quella direzione e lo fanno diventare uno standard capiamo che per ognuno di noi è basilare avere quei dati costantemente aggiornati ecco allora io vi ringrazio in tutti e due gli ultimi interventi ci sono secondo me a volerle intendere delle indicazioni per gli studenti del corso di economia e gestione dei servizi turistici rispetto a possibilità di lavorare in questo campo e rispetto a competenze che è necessario affinare e governare pienamente per poter poi essere all'avanguardia nel momento in cui si va a operare quindi l'ultima domanda era questa avete già risposto concludiamo questo momento adesso passiamo siamo già in ritardo Giulia l'ultima domanda Grazie per la visione!